food motivator il vostro inviato speciale mi hanno mandato qua sulle montagne per fare un servizio sulla cucina della montagna ma ahimè oltretutto nel mentre hanno anche bloccato e chiuso tutti gli impianti io ero pronto con il frasignol ero pronto anche qua con gli amici del san si killer per assaggiare degli ottimi hamburger ma è che dire hanno chiuso gli impianti ma noi rimaniamo io con la buona cucina perché io faccio tavola ragazzi non faccio sci faccio la buona tavola mi occupo di questo quindi mi raccomando venite fate una passeggiata in montagna anche se gli impianti sono chiusi ma si può mangiare questo vale dappertutto vale su tutte le montagne del piemonte ed italia quindi non abbandoniamo non lasciamo soli gli amici della montagna mangiamo questo è il mitico san si killer il mitico hamburger cucinato su quel gatto vedete lì questo gatto del snow food il gatto delle nevi a san sicario col caffè vergnano ma vale per tutta la montagna del piemonte e dell'italia quindi mi raccomando i frasignol sono pronti mi raccomando la buona tavola i consigli del vostro fun motivetto sul turinista torneranno la prossima settimana con tante curiosità ma per questo fine settimana i prossimi fate una gita ci aspoliamo l'aria buona l'aria fresca fa bene se fa una bella magnata che dire quindi mi raccomando non lasciamo non abbandoniamo gli amici della montagna io mi siedo qua ecco qua faccio un po di tavola e quindi buon appetito dal turinista ciao